Oggi vi farò un tutorial su come fumare una sigaretta come un vero pro. Allora, innanzitutto vi serviranno quattro cose più o meno. Una sigaretta, un accendino funzionante, uno massimo due polmoni e una bocca. Quindi ovviamente la bocca servirà per aspirare nei vostri polmoni il fumo che avrete acceso con l'accendino. Quindi è tutto un circolo vizioso che vi porterà a morire molto prima. Allora, mi accingo a svolgere l'atto. Mi metto la sigaretta tra il mio labbro superiore e il mio labbro inferiore. In modo tale che questi due ultimi lo schiacciano in modo da non farla cadere. E questo è il primo passo. Diciamo che ci sono dei fighetti che lo spostano un po' più a destra, così no? Però se ne scende, tenderà a scendere. Invece se lo mettete qua, capito? Fa figo. Invece se lo mettete nel lato, sembrate un po' più tossici, ecco, tutto qua. E niente, mi accingo a fare l'errore. Quindi prendo l'accendino, i polmoni ce li ho, accendo la sigaretta. Ah, ovviamente quando accenderete la sigaretta bisogna portare la fiamma vicino alla punta della sigaretta, non so se vedete. E aspirare. Questo è un concetto un poco strano, però vi verrà naturale, non vi preoccupate. Quindi mettete qua, avvicinate alla punta. E tirate. Ovviamente, ora ve lo faccio rivedere in modo più lento. Ovviamente non la riaccendo perché è già acceso. Scusate il tumore. Ora il fumo dei miei polmoni. Ora è uscito. Perfetto. Non vi consiglio di tenerla molto nei polmoni, così potrete vivere di più e fumare molte altre sigarette. Ovviamente se avete iniziato a fumare perché siete tristi, continuate. Sicuramente non allevierà i vostri dolori. Se fumate per fare i figli o perché lo fa il vostro amico un po' più grande, o della vostra età, non lo so, il vostro amichetto che... Beh, non vi farà rimorchiare, anzi vi farà rimorchiare potenzialmente di meno perché morirete prima e avrete meno tempo per rimorchiare, ecco. Un altro trick interessante può essere tenere il fumo nella bocca, aspirarlo dal naso e poi inspirarlo. Buttarlo fuori? Ora vi faccio vedere. Non so se si è visto, spero di sì, nel caso lo rifaccio. Ecco, questo fa più figo. Per i fantasmini è più coin flip perché sì, vengono, ma a volte non vengono. Se volete fare i fighetti e vengono, bene, ma se non vengono fate solo la figura di merda. Quindi, attenti, è una... come dire, è un'arma a doppio taglio, ecco. Ecco, sono venuti di merda in questo caso, ma fotte sega. Detto questo, non vi preoccupate, fumare non vi farà scopare di più, non vi farà sembrare più fighi, vi farà solo del male. Quindi smettete o non iniziate. Grazie.